direi che questa settimana non ho molte novità da raccontare nel senso che il grosso delle novità ve le ho scritte via mail per quanto riguarda le modalità d'esame le abbiamo scritte rilette, rilette sei volte speriamo che siano chiare speriamo che siano soddisfacenti e quindi non ho ricevuto delle segnalazioni particolari in merito appunto alle modalità d'esame che avevamo descritto le avevamo già raccontate a voce prima quindi non erano novità però abbiamo provato a mettere i puntini sulle i relativamente proprio alle modalità operative dovremo essenzialmente nei prossimi laboratori quindi gli ultimi due laboratori come ho indicato nel 3 giugno e il 10 giugno fare un'esperienza di simulazione dell'esame usando anche proprio gli strumenti come Github Classroom per prendere il progetto e consegnarlo e tra l'altro il Github Classroom permetterà anche di associare il vostro utente Github al vostro nome e matricola come studente e quindi è opportuno farlo prima dell'esame così abbiamo un passo in meno da fare durante l'esame quindi il fatto di provarlo prima ci permette anche di avere già l'account Github pronto per poter partecipare senza dover fare delle associazioni a mano tra il nome dello studente e il nome dell'account Github che potrebbe essere su grandi numeri un pochino confusi o complessi da fare però questo come dicevo lo vediamo con calma nelle ultime due esercitazioni l'orario sarà un po' diverso quindi anziché fare 8.30 11.30 11.30 facciamo un turno unico cerchiamo di andare in parallelo e faremo dalle 9.30 alle 11.30 a due ore 9.30 magari partendo un po' prima per prepararci e poi avere due ore di esame nette nel quale provare gli strumenti probabilmente saremo più persone che non faremo un turno solo di laboratorio mentre all'esame faremo più turni ovviamente per potervi diciamo supportare oppure sorvegliare a vostro piacere meglio mentre invece in laboratorio se anche ci fossero più di 25 persone ce ne fossero 30-40 insieme tanto non dobbiamo necessariamente fare sorveglianza puntuale ma più che altro diciamo così testare lo strumento e i vari meccanismi altra novità non le ho abbiamo iniziato appunto l'argomento nuovo che è quello delle simulazioni ci porterà avanti per i prossimi due laboratori adesso essenzialmente avremo solo più di teorie non c'è più nulla abbiamo finito faremo ancora qualche esercizio mirato sulle simulazioni e poi i temi d'esame se guardate sul sito del corso io ho già preparato il calendario del corso fino alla fine quindi abbiamo già tutti gli appuntamenti vari un appuntamento ecco che che salterà sarà il 2 giugno quindi la nostra chat normale cioè periodica del martedì mattina tra due settimane cadrà il 2 giugno e quindi essendo un giorno di festa mi sembra giusto che tutti noi prendiamo un pochino di fiato in quel giorno e quindi non prevedo di fare diciamo così la chat settimanale ma anche perché il giorno dopo ci sarà la simulazione d'esame quindi ci potremo vedere lì ci potremo concentrare su quello quindi vi arriverà comunque poi in avviso perché stiamo parlando tra 15 giorni però cominciando a compilare il calendario mi sono accorto di questa di questa data particolare come dicevo a questo punto non ho altri dettagli da raccontarvi e quindi sono aperto per le vostre domande richieste curiosità o altro grazie allora per cominciare a rispondere facciamo al solito condivisione di schermo allora la prima domanda è relativa al laboratorio 10 di domani in cui si chiede del gennaio 2020 arrivo gruppi clienti con intervallo di tempo casuale completo tra 1 e 10 minuti in questo caso l'ora di lavoro sarebbe trascurabile perché la riflessione di bar lavorerebbe per giorno in giorni senza fermarsi non rispondere 2020 su più giorni fissando un'ora di apertura o un'ora di chiusura no noi possiamo allora ovviamente il testo di nuovo qua non è non è non è preciso su questo punto di vista però non è pensabile che quando arriva che ne so un cliente alle 7 meno 10 orario di chiusura non ci sono tavolini tu dici fermati lì e aspetta fino a domani mattina alle 8 quando riapriamo non posso congelare un utente quindi in quel caso conviene fissare conviene fissare un orario allora si possono fare due modi il primo modo è diciamo così lavorare in astratto immaginando semplicemente un tempo infinito quindi a un certo punto ci sarà qualcuno che arriva al minuto 2000 per 20.000 quindi 8736 84 questo scritto non ci interessa se questo misurto in realtà corrisponde a 12 ore e più in un certo senso lo simuliamo così come se fosse un numero quindi in questo caso non siamo neanche obbligati a lavorare con dei time reali e quindi simuliamo questo bar come se non ci fosse appunto come se lavorasse 24 su 24 ci interessa solamente il tempo d'arrivo rispetto al tempo zero che sarebbe l'inizio della simulazione oppure l'altra possibilità è lavorare con un orario che ne so ad esempio dalle 6 alle 24 non so e quindi la conseguenza è che ci saranno eventi di arrivo che non vengono considerati vengono buttati via in questo caso cosa faccio considerati non mi susscrivo sono considerati in questo caso cosa faccio quando estraggo un evento che ha il tempo event punto time maggiore l'ora di chiusura chiudo la simulazione chiudo la simulazione ovviamente nella coda avrò ancora tanti eventi che sono in attesa di elaborazione però è finito il tempo il bar è chiuso quindi al limite potrò segnalare quanti utenti ci sono ancora nella coda che non sono ancora stati soddisfatti volendo altrimenti semplicemente io ho simulato quell'arco temporale e fine questi eventi qua sono avvenuti in quell'arco temporale in questo esercizio potete prendere entrambe le scelte proprio perché il testo non è chiaro né in un senso né nell'altro diciamo che forse è un po' esagerato questo 2000 e soprattutto con un tempo di arrivo tra 1 e 10 minuti anche se è vero che 2000 minuti non sono forse arrivassero tutti all'arco di un minuto scusatemi non cambia la scena calcolatrice se io faccio 2000 minuti diviso 60 non so comunque 33 ore comunque è esagerato questo numero quindi scusate non ce la farò scegliete voi come preferite lavorare dato il ciclo di simulazione vero e proprio non cambia un granché così potete anche scegliere ecco l'altra l'altra scelta di progetto è se genero tutti i 2020 all'inizio prima del run quindi ho un ciclo che ne genero 2000 ogni volta che ne ho generato uno so un certo tempo e genero quello successivo eccetera eccetera l'importante appunto è che il tempo tra uno e l'altro sia ogni volta calcolato casualmente oppure genero un solo genero solamente il primo cliente ed ogni volta che strago un cliente cioè il cliente è un gruppo intendo genero quello successivo quindi in qualche modo ho un evento che si genera da solo con un ritardo con un ritardo casuale e in questo caso la generazione la farò dentro la process event cioè quando gestisco un evento e l'evento è del tipo è arrivato un gruppo prima di chiedermi se il gruppo ci sta non ci sta eccetera vuol dire che ho estratto quello e schedulo il prossimo che avverrà in un intervallo tra 1 e 10 minuti nel futuro tanto non ho problemi non sono obbligato ad avere tutti gli eventi noti all'inizio l'importante è che io ogni determinato senato di tempo sappia diciamo il futuro può cambiare possiamo aggiungere eventi nel futuro in qualunque momento l'importante è che non ci siamo persi qualche evento nel passato che avremmo dovuto trattare prima allora questo non lo posso recuperare però per evitare di caricare la coda degli eventi caricare tutti all'inizio tu puoi avere una sorta di meccanismo in cui dici va bene appena arriva un cliente simulo che simulo l'intervallo di tempo dopo il quale arriverà il prossimo e quindi nella coda avrò praticamente un solo un solo cliente per volta non ne ho duemila ne ho sempre solo uno lo tolgo ne metto uno nuovo lo tolgo ne metto uno nuovo e così via ovviamente in quella coda potranno finire anche gli altri eventi il tavolo liberato il bancone liberato eccetera eccetera ma questi sono gli altri eventi che hanno che vedere con i clienti che erano andati prima ma il ciclo di generazione degli eventi lo posso fare tutto all'inizio oppure mano a mano come preferisco allora poi altra domanda di Matteo ah no c'era un'altra prima scusatemi che non ho visto perché la chat mi è scrollata via allora partiamo prima quella di Gaia per definire caratteristiche di eventi invece do l'attributo type nella classe event possiamo definire due classi figlie di event sì certo si può fare spesso è un lavoro un lavorone inutile diciamo così rispetto certo tu puoi sicuramente fare così nel senso che io ho una classe event che contiene che contiene un attributo time quello devo averlo comune nella super classe e poi posso avere appunto event gruppo arrivato che estende event poi posso avere event che ne so tavolo liberato che estende l'evento e così via e ciascuno potrà avere i suoi attributi in più però si può fare poi cosa succede che nel nel ciclo di simulazione dovrò fare uno switch non potrò più fare lo switch come avevo fatto prima event punto get type e a seconda del tipo mi dava vari casi perché non ce l'ho più questo attributo quindi dovrò fare una serie di controlli del tipo if event instance of event gruppo arrivato allora faccio certe cose faccio certe cose se non ne faccio altre quindi dovrò controllare l'oggetto evento di quale tipo a quale classe appartiene l'altra cosa facciamo attenzione a quali sono gli attributi perché se io devo mettere in questo evento un attributo che è il numero del gruppo oppure il numero di persone del gruppo e questo stesso attributo ce l'ho anche qui beh allora alla fine questi attributi conviene spostarli nella classe madre quindi se effettivamente ho attributi molto diversi vale la pena di fare sottoclassi anche se appunto sono un pochino più difficili da gestire a livello di codice se invece vedo che questi attributi sono quasi sempre gli stessi allora tendo a spostarli nella classe madre e quindi le sottoclassi cominciano a essere un po' meno utili però sicuramente si può fare assolutamente dipende un po' se questa varietà di eventi la facciamo usando le classi usiamo un attributo di tipo dal punto di vista della coda prioritaria non c'è problema l'importante è che ci sia l'attributo time e che ci sia appunto il comparatore definito sul time poi gli altri attributi non servono per la funzionalità della coda dei eventi servono solamente per la simulazione e quindi ci gestiamo come vogliamo Allora invece veniamo alla domanda di Matteo che mi chiedeva il secondo punto implementa un algoritmo ricorsivo o una simulazione riguardo a questo ultimo punto è molto difficile immaginare come da un grafo si possa implementare una simulazione dato che quest'ultima lavora con strutture più complicate ovviamente dipende però il grafo a volte è la struttura dati su cui la simulazione può lavorare faccio un esempio antipatico ma che è di attualità immaginate un grafo dei contatti diciamo così per il tracciamento delle epidemie ok quindi avete i nodi che sono le persone gli arco che dice chi è stato in contatto con chi e quella è la struttura dati a grafo che ti dice quali sono stati contatti diciamo in un certo intervallo di tempo e poi la simulazione può dire simuliamo che tizio fosse infetto allora con certi criteri quante persone vengono infettate da tizio quante a loro volta dopo quanto tempo eccetera eccetera allora in questo caso abbiamo una simulazione che viaggia nel tempo ovviamente come sempre simulazione viaggia nel tempo ma per poter capire cosa fare al passo successivo devo consultare una struttura dati che è fatta a grafo non ho solamente l'elenco dei tavoli o l'elenco delle auto da noleggiare ma ho appunto un grafo che mi dice dato un elemento c'era un esercizio che pensavo di fare tra quelli che faremo nei prossimi giorni che lavorando proprio sulla mappa degli stati delle nazioni con cui avete lavorato col grafo la volta scorsa prova a simulare delle migrazioni cioè immaginiamo che ci sono mille persone in uno stato e queste mille persone possono migrare negli stati adiacenti con certe probabilità con certe e come si distribuiscono quindi molto spesso appunto il grafo non è la struttura è la struttura dati a cui il simulatore attinge per sapere che cosa simulare per fa parte del modello in qualche modo del sistema che ti dice per una determinazione quali sono le sue conseguenze dirette e poi la simulazione quindi prende le conseguenze dirette a sua volta calcola le conseguenze della conseguenza e così via andando avanti nel tempo quindi molto spesso appunto il grafo lo costruiamo e poi in simulazione andiamo semplicemente a interrogarlo per trovare quasi sempre i vicini di un certo vertice perché i vertici saranno poi gli elementi che stiamo simulando Paolo si lamenta che non sono abbastanza pignolo perché mi dice che le direttive per il lavoratore 10 sono piuttosto sintetiche questo richiede una serie di nostre supposizioni infatti gli esami sono andati a direttive più specifiche oppure dovremmo fare le nostre interpretazioni ma allora nell'esame di solito cerchiamo di essere precisi e quindi dare già indicazioni su che cosa deve succedere ad esempio quel discorso dell'orario del bar in un esame non si sarebbe verificato nel senso che saremmo stati diciamo così possibilmente più precisi così come vedete nei temi di esame c'è sempre scritto il grafo deve essere orientato non orientato pesato non pesato quindi diamo diciamo queste indicazioni anche un pochino più precise per avere maggiore anche uniformità di svolgimento inevitabilmente c'è qualcosa che rimane non definito perché altrimenti dovremmo scrivere il codice della soluzione per non avere diciamo così margini di interpretazione teniamo conto che ci sono una serie poi di scelte più o meno o di ragionamenti più o meno standard ad esempio nel laboratorio di domani c'è il discorso della probabilità della soglia 0,9 0,8 di probabilità allora questo la prima volta che uno lo vede è complicato da ragionare ma poi è sempre la stessa cosa quindi come gestire le probabilità sono sempre nello stesso modo quindi quello che all'inizio può sembrare una cosa che richiede parecchio ragionamento poi di nuovo tende a diventare abbastanza standard ripetitivo è chiaro che la regola generale vale sempre cioè ciò che a maggior ragione adesso che saremo diciamo così con l'esame a distanza ciò che non è scritto nel testo deve essere inteso come libera interpretazione perché magari una frase è ambigua noi la pensiamo di scriverla in modo esatto salta fuori che per chi la legge significa una cosa leggermente diversa e chiaramente quando ce ne rendiamo conto dobbiamo per forza accettare le vostre interpretazioni ma è così nella progettazione è così le specifiche non sono mai esatte in aula ci sarebbe il modo anche eventualmente di chiarire un dubbio ma in questa modalità online lo escludo del tutto perché poi l'informazione non arriva a tutti quindi dobbiamo fidarci tutti del testo poi noi potremmo dare appunto di chiarimenti individuali ma poi non mi piace non mi è mai piaciuto a metà del compio dire ah guardate che questo punto si fa così perché magari c'è poi qualcuno che ha iniziato a lavorare in un modo diverso e lì stai facendo perdere tempo quindi questo mi sembra sbagliato quindi si possono dare di chiarimenti individuali ma non cambiare l'interpretazione del testo per tutti a esame iniziato cercheremo di essere attenti e come se visto che la domanda tua gira soprattutto verso l'esame mettiamo degli esempi come abbiamo scritto una cosa che negli altri discorsi non facevamo nei testi nei temi di esame nello scorso non vedete degli esempi di risultati calcolati dal sistema così sapete già che tipo è molto più chiaro attraverso l'esempio anche capire che cosa sta chiedendo della spiegazione quindi fa fede la spiegazione ma l'esempio aiuta a capire attenzione non guardate solo l'esempio e dimenticando di leggere la spiegazione perché altrimenti rischiate di perdere dei pezzi importanti allora cercheremo di essere più precisi possibili qualcun altro altri dubbi? hanno pubblicato le date degli esami no, vero? perché prima hanno detto il 15 poi hanno detto il 18 oggi il 19 l'ho ancora controllato ma non vedo ancora nessuna data pubblicata questo perché c'è stata una richiesta molto forte di usare quegli strumenti come Virtual Live Respondus tutti questi vari strumenti del diavolo inteso come strumenti infernali proprio e quindi hanno fatto attenzione che non ci fossero appelli sovrapposti troppi appelli sovrapposti che richiedevano di usare questi sistemi per evitare che andassero in crash in palle quindi a quanto ho capito stanno spostando delle date quindi fate attenzione ai docenti me compreso che vi hanno comunicato delle date in anticipo perché probabilmente alcune di queste verranno riviste io non so ancora nulla sulle mie non mi hanno ancora detto nulla spero di no perché io non uso quegli strumenti però non è detto quindi questo ritardo è dovuto al fatto che stanno cercando di rispostare alcuni esami per evitare per ridurre le probabilità che ci siano dei problemi sistemistici proprio con Respondus con Virtual Live eccetera che hanno dei limiti massimi di capienza di numero di persone quindi questo è il motivo per cui gli appelli che erano già praticamente pronti già nella settimana scorsa alla fine li stanno spostando perché si sono accorti appunto che c'erano questi rischi anche diciamo così derivanti dall'esperienza che c'è stata negli esami di recupero che sono stati fatti nella settimana scorsa quindi dobbiamo avere ancora qualche giorno di pazienza purtroppo ok ok Grazie. No, ovviamente non vi trottengo, se non c'è l'esigenza. No, ovviamente non c'è l'esigenza. No, ovviamente non c'è l'esigenza. No, ovviamente come sempre per qualunque cosa ci possiamo sentire online, però magari appunto non vi blocco tutti qua davanti allo schermo se effettivamente non ci sono argomenti da discutere, ma se state lavorando più sul codice, magari appunto i dubbi sulla simulazione, sul laboratorio 10, li possiamo vedere insieme domani nel loro laboratorio. Noi ci risentiamo a questo punto martedì prossimo. Ok, non essendoci nessuna sollevazione popolare contraria, allora prendiamo per buono questo piano. Allora ci vediamo domani con chi ha voglia di fare un salto in laboratorio, ci vediamo martedì prossimo per la prossima chat e ci vedremo come solito a fine settimana per le video lezioni che a questo punto, come dicevamo, sono esercizi sulle simulazioni per poi passare ai esercizi di temi di esame nella settimana prossima. Allora grazie per essere venuti a trovarmi anche questa mattina e ci vediamo prossimamente. Grazie 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 Grazie